Stephen Paddock, americano, 64 anni, pensionato, possedeva case ed elicotteri, aveva fatto fortuna nel settore immobiliare e si divertiva a giocare d'azzardo. È arrivato a Las Vegas giovedì 28 settembre, ha preso una camera al 32esimo piano del Mandala Bay Hotel, che domina meglio la piazza, e in tre giorni ha messo a punto la più sanguinosa strage con armi da fuoco che gli Stati Uniti ricordino. Per 20 minuti ha sparato sulla folla, fermandosi solo per cambiare arma. Quando la polizia ha fatto irruzione, in camera ha trovato 23 fucili. Altre 19 armi l'assassino li aveva lasciati a casa, insieme anche all'esplosivo ritrovato nella sua auto, tutto acquistato legalmente. Il presidente Donald Trump lo definisce semplicemente un pazzo malato di mente, liquidando così il dibattito riapertosi sulla vendita di armi nel paese. Lo definisce un uomo normale, invece, il negoziante che ha venduto a Paddock molte di quelle armi usate per uccidere. La stessa cosa che da giorni ripete anche il fratello dell'assassino, che nonostante la rivendicazione della strage da parte dell'Isis, ha sempre considerato Steven estraneo ad ogni affiliazione politica o religiosa. Ma l'identikit dell'uomo qualunque non convince gli investigatori, che hanno chiesto alla compagna dell'uomo di tornare da un viaggio per essere interrogata. Di certo, i trascorsi criminali del padre di Steven Paddock non sono da tralasciare. Benjamin, rapinatore seriale e evaso dal carcere, negli anni 70 era nella lista dei grandi ricercati dall'FBI. E mentre gli investigatori cercano il movente che ha spinto un apparente uomo qualunque ad uccidere, la città dell'As Vegas prova a reagire. Dopo la solidarietà testimoniata da migliaia donatori di sangue, in ogni angolo della città della perdizione si intonano cori di preghiera per le vittime della strage.